Siamo riusciti a mettere su un programma che ci sembra interessante per dare vitalità in questi tre giorni al centro storico della città. Il clou della manifestazione sarà il 21 con tutta una serie di concerti diffusi per la città. Ci teniamo a sottolineare il fatto che ci saranno queste due aperture alle 17 presso l'ospedale civile di Teramo e alle 18 presso il Palazzo Melatino, sede della Fondazione Tercas. Sarà una giornata di musica, incentrata abbiamo voluto dare il nome Donne Summer per richiamare la famosa artista ma anche per dare un significato, un valore aggiunto perché sarà incernato soprattutto sulla donna, su artiste femminili quindi quasi tutte le band saranno caratterizzate dalla presenza di donne musiciste e cantanti e abbraceranno tutti i tipi e generi musicali. Quindi sarà una serata dalle 18 fino a notte inoltrata per tutto il centro della città. Si chiuderà il 24 a Colleparco con anche lì sempre nello stesso format musicisti per tutta la serata. Grazie. 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 Grazie.